Stavano verbalizzando una multa per divieto di sosta ad una vettura e sono stati aggrediti non solo verbalmente ma anche fisicamente. È accaduto a due agenti della pulizia locale di Catanzaro in servizio in via Marincola Pistoia. A chiedere il loro intervento era stata la titolare di un esercizio commerciale, il cui accesso era stato interdetto da un'auto in sosta vietata. Quando poi è tornata la proprietaria della vettura, raggiunta dal coniuge, è iniziato il parapiglia, culminato con i due vigili finiti in ospedale, con una prognosi di cinque giorni. Simili episodi non possono essere più tollerabili, ha commentato il nuovo comandante della polizia locale di Catanzaro, Vincenzo Ruocco. L'aggressore è stato segnalato all'autorità giudiziaria e questa sarà la linea dura che intendiamo seguire anche in futuro contro chi non rispetta la nostra divisa. Tutti i cittadini devono comprendere che il corpo di polizia locale rappresenta un irrinunciabile presidio di legalità e che è necessario perciò rispettare il ruolo e le funzioni. Per quanto mi riguarda, mi opererò sempre a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli agenti. Il sindaco Nicola Fiorita su Facebook ha commentato l'aggressione che dimostra come sia difficile nella nostra città fare rispettare le regole. È un impegno che avevamo assunto e non si torna indietro. La stragrande maggioranza dei catanzalesi è rispettosa e dotata di senso civico, ma c'è ancora qualcuno che ritiene normale parcheggiare in doppia fila o nei posti riservati ai disabili, allacciarsi abusivamente alla rete idrica o abbandonare per strada rifiuti ingombranti e carcasse di auto, non raccogliere gli escrementi del proprio cane. Questa battaglia per il rispetto delle regole noi l'abbiamo incominciata con i fatti.